Ciao a tutti. Questo è il dilemma del mattino, quando andate al bar e dovete mettere dello zucchero nel cappuccino o nel caffè. Zucchero bianco, cosiddetto raffinato, detto anche uno dei veleni bianchi dall'internet, o di canna? Mi sono deciso oggi a iniziare questa serie di video perché ho visto che addirittura c'è un video virale su youtube che gira che vuole tra virgolette svelare la truffa dello zucchero di canna e in questo video si fa vedere che schiacciando lo zucchero di canna che noi comunemente troviamo nelle bustine dentro ci sarebbe del bianco e quindi questo sarebbe un indizio che lo zucchero che noi chiamiamo di canna viene in realtà colorato con del caramello che effettivamente ha un colore più scuro. Cominciamo da zero, dai fondamentali. Questo è del normale zucchero da tavola. Zucchero bianco, zucchero raffinato, come volete chiamarlo. Il saccarosio è bianco, è naturalmente bianco, va bene? Non c'è bisogno di colorarlo di bianco come a volte si legge da qualche parte. Il saccarosio è diffusissimo nel regno vegetale, solo che commercialmente è conveniente estrarlo solamente o dalla barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero. Lo zucchero bianco deriva indifferentemente da una o dall'altra. Sia la barbabietola da zucchero quando viene trattata, sia la canna da zucchero quando viene trattata, formano un liquido molto scuro che deve essere purificato oppure, come si dice, raffinato. Che cosa si toglie quindi? Si toglie questo. La melassa è il residuo di lavorazione dello zucchero grezzo integrale. Gli zuccheri che noi estraiamo dalla barbabietola o dalla canna sono sostanzialmente saccarosio bianco e melassa. Ok? Basta, non c'è nient'altro. La melassa di barbabietola, cioè quello che si ottene separando il saccarosio dal resto del sugo della barbabietola da zucchero, fa abbastanza schifo, non è buona, io ho provato ad assaggiarla e quindi normalmente si getta a meno che venga trattata in qualche maniera. Quindi normalmente lo zucchero di barbabietola viene portato a questo stadio di raffinazione, di purificazione, che è saccarosio puro al 99,9%. Quella di canna da zucchero invece, che è questa che voi vedete, è buona. Quindi può essere indifferentemente portato a questo grado di purezza oppure ci si può affermare a stadi intermedi, ed è così che abbiamo zuccheri di colori diversi, più ambrati, meno ambrati, più giallini, più scuri, più marroncini. Tutti questi zuccheri che noi vediamo in commercio e hanno vari nomi commerciali, demerara, turbinado, muscobado, differiscono solamente per la percentuale di melassa e saccarosio. Più scuro lo zucchero e più melassa c'è. Ma stiamo comunque parlando di percentuali estremamente piccole. Stiamo parlando di variazioni tra lo 0,5% e il 5%. Tutti questi zuccheri sono per il 95% o più saccarosio. Nessuno di questi è più salutare dell'altro, perché anche gli eventuali, lo vedremo in un altro video, sali minerali che sono presenti sono presenti in quantità abbastanza ridicole, per cui se voi pensate che usare il mascobado invece che del normale zucchero bianco in una torta possa rendere la torta più sana, vi state illudendo. Non è come nella farina che nella raffinazione perdiamo le fibre che hanno un valore biologico e nutritivo. Qui non ci sono fibre, non ci sono vitamine, non c'è praticamente niente, rimangono solamente un po' di aminoacidi e un po' di sali minerali. Quindi adesso vi faccio vedere come ritottenere a casa degli zuccheri di varie tonalità di colore a partire dallo zucchero bianco e dalla melassa. Ora vi faccio vedere il processo contrario alla raffinazione, chiamiamola sporchificazione. Prendiamo un pochettino di melassa e goccioliamola dentro la mia ciotola. A questo punto aggiungiamo lo zucchero bianco. Durante il mescolamento stiamo facendo al contrario il processo di purificazione, quindi stiamo andando a ricoprire i singoli cristalli di saccarosio con la melassa che era stata tolta nello zuccherificio. Prendiamo un cucchiaio così la schiacciamo meglio. Eccolo qua! Ed è un pochettino più scuro del classico demerara che noi troviamo la mattina al bar quando vogliamo metterlo nel caffè o nel cappuccino. Lo zucchero di questo colore, o più chiaro o più scuro, è sempre saccarosio bianco più un pochettino di melassa, che è il residuo che normalmente togliamo. Il video che ho visto pretenderebbe di dimostrare chissà quale truffa facendo vedere che se uno schiaccia questi zuccheri si ottengono dei cristallini bianchi. Certo, perché sempre durante la cristallizzazione il saccarosio che vi dicevo è comunque più del 95%, 96, 97, 98, 99% a seconda delle varietà di zuccheri, è comunque zucchero puro. Sempre tutti questi zuccheri hanno i cristalli di saccarosio più o meno piccoli, posso anche non vederli a occhio nudo, ma ci sono, ricoperti di melassa di questa sostanza appiccicosa e aromatica. Vogliamo farlo più scuro? Ancora più scuro? Va bene. Simile al mascobado. Ed ecco qua il nostro mascobado o muscovado, che dir si voglia. Eccolo. Odore meraviglioso, mi piace tantissimo, che però non deve essere spacciato per salutare, è sempre più del 95% saccarosio. Vedete com'è pastoso? E' pastoso perché contiene più melassa, un poco di più, qui andremo dal 0,5% di melassa, non più dell'1%, questo è il demerara commerciale, qui magari saremo al 3% e qui saremo al 5%. Quindi ricapitoliamo, tutti gli zuccheri variamente colorati sono composti da saccarosio puro più quantità variabili di melassa. Questo per esempio, che è simile al mascobado o muscovado, si ottiene solamente dalla canna. Se ne mettiamo meno melassa, ne otteniamo uno che ha una gradazione un po' più chiara. Se ne mettiamo ancora di meno, otteniamo un qualche cosa che è molto simile a quello che viene comunemente chiamato demerara e che è in commercio nelle bustine che tutti noi troviamo la mattina. E' veramente solamente sporco di melassa, ha esattamente le stesse proprietà dello zucchero bianco, così del resto come tutti gli altri, a parte l'aroma, il muscovado è molto aromatico, via via che la melassa diminuisce, è molto meno aromatico, molto meno idroscopico. Questo di fatto è identico allo zucchero bianco. Spero che il video vi sia piaciuto, se volete iscrivetevi al canale e se non volete perdere nessun video di quelli che faccio, cliccate sulla campanellina che vedete sotto, di fianco al simbolo dell'iscrizione. Farò altri video sullo zucchero, o meglio sugli zuccheri, perché ce ne sono tanti, e spesso tra zuccheri e dolcificanti vari ne arrivano continuamente sul mercato, per cui avremo un sacco di cose da dire. Per ora io e Peter vi salutiamo.